L'embedded finance è la capacità che alcuni attori finanziari hanno di integrare nei percorsi digitali delle aziende, siano esse di servizi industriali eccetera, delle componenti finanziarie che richiedono una licenza data da un'entità di vigilanza. Allora, Trisor occupa uno spazio un po' particolare nel mondo del banking as a service in Europa, perché da una parte abbiamo delle radici molto fintech, molto vicine alla tecnologia, all'evoluzione tecnologica, ai bisogni dei clienti e dei nuovi clienti e dall'altra parte abbiamo un know-how tanto tecnico quanto giuridico e di regolamentazione che ci viene dall'azionista Societe Generale che ci permette di irrobustirci e di percorrere le varie fasi dello scaling up con serenità, con stabilità finanziaria e con a disposizione una quantità di risorse e di saperi che nel nostro ambito sono un lusso.